Schon sei tagen loggs nicht rund, denn wir haben einen Mund, in mein Alles was für dich Posso parlare, dottore? Prego Sei tu, diciamo, l'allenatore di questa palestra? In persona Posso parlare? A disposizione Allora, dottore, per fare colpo su una ragazza Tu c'è il titolo No, no, capisci a me Ah, per fare bene a me Che macchinario posso usare, diciamo? Per fare colpo su una ragazza Eh, fare colpo, sì Senti, fai una cosa, come esci dalla palestra? Senti A sinistra sta il banco, matto Usa quello Funziona? Al cento per cento Specifico per te Eh, a sinistra, come esci? Dai, tranquillo Grazie, dottore, già direi Così gli sono regalati qua